Prima di cominciare dovresti presentarmi, tu vedrai che mi avvicino al Pozzo di Petrolio e quando io mi avvicino, tu potresti dire il mio nome. Quando ti avvicini a me? Sì, quando ti avvicino potresti dire a tutti il brode figlio di queste colline che ha cura del greggio del padre e poi potresti fare il mio nome. Va bene?